Ah siete qui? Perdonatemi non vi avevo visto, scommetto che siete qui oggi per sapere qual'è il nuovo argomento che presentiamo su sit e qual'è il nuovo hashtag facebook. Bene, vi accontento subito, guardiamo un po' di cosa si tratta. Quante volte quando dobbiamo scegliere tra due o più alternative nella nostra testa comincia uno scontro tra una o più soluzioni, quasi come una sorta di braccio di ferro. Questo succede spesso con diversi argomenti della lingua italiana. Immaginiamo ad esempio la differenza tra preposizione semplice e preposizione articolata. Che cosa uso? Di o del? Oppure la differenza tra pronomi diretti e pronomi indiretti? Che cosa uso? La o le? Oppure la grande differenza che c'è tra passato prossimo e imperfetto? Che cosa uso? Ho fatto o facevo? Qui abbiamo uno scontro diretto tra due parole. Quando dobbiamo introdurre in una frase una causa o una conseguenza spesso facciamo un po' di confusione, non sappiamo quale parola usare. Prima di andare avanti vi devo presentare un amico molto simpatico e speciale. Oggi non siamo soli. Ciao ci sei? Certo, ciao a tutti. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. E tu? Tutto bene, grazie. Dovete sapere che lui è uno studente che sta imparando l'italiano da un po' di tempo su sit, ma è un extraterrestre. Come ti chiami? Sono ZP35, in italiano tiramisù. Wow, che bel nome, tiramisù. Fa venire quasi l'acquolina in bocca. Allora, tiramisù, sei pronto per scoprire con noi queste due nuove parole? Sì, prontissimo. Perfetto. Ma prima di vedere quali sono queste due parole, partiamo come sempre con delle immagini e descriviamole insieme. Allora, che cosa abbiamo visto nelle immagini? Nella prima foto abbiamo una persona che forse non sta tanto bene. Tiramisù, secondo te perché questa persona non sta bene? Ma forse si sente troppo gonfia. Sì, si sente gonfia, ha la pancia grossa, ma perché si sente gonfia? Che cosa ha fatto? Ha mangiato troppi tiramisù? Forse, ma nell'altra immagine non c'è il tiramisù. Che cosa abbiamo visto nelle altre immagini? Che cosa ha mangiato esattamente? Delle pizze, troppe pizze. Perfetto, tiramisù. Questa persona ha mangiato troppe pizze e forse dopo ha anche qualche tiramisù. A te piace la pizza? Sì, certo, ma meglio il tiramisù. Certo, immagino. Quanti tiramisù hai mangiato oggi? Forse cinque. Mamma mia, sono tantissimi. Allora, questa persona si sente gonfia per un motivo, una causa precisa. Ha mangiato troppe pizze. Allora, proviamo adesso a guardare le immagini e a completare questa frase. Tiramisù, sei pronto a completare la frase con noi? Sì, sono molto curioso. Bene, vediamo insieme le foto e la frase. Allora, hai visto la frase tiramisù? Qual è secondo te la parola giusta per completare questa frase? Forse è perché mi sento gonfio perché ho mangiato troppe pizze. Forse sì, hai ragione. Mi sento gonfio per un motivo preciso, una causa precisa, perché ho mangiato troppe pizze. E voi siete d'accordo? È perché la parola giusta? Certo, è perché... Aspetta, lascia agli altri il tempo di pensare. Allora, adesso invece cambiamo l'ordine delle immagini e proviamo a leggere un'altra frase. Tiramisù, sei pronto? Yes, of course. Ah, parli anche l'inglese. Allora, secondo voi qual è la parola che manca nella frase? Ho mangiato troppe pizze siccome mi sento gonfio. Ah, ho chiesto a loro. E poi non è siccome. Ah, no? No. Pensa bene, rifletti bene. Allora, adesso l'ordine delle foto è diverso. Abbiamo prima la foto delle pizze e poi la foto dove si vede questa persona che si sente gonfia. In questo caso lui ha mangiato troppe pizze e subito dopo si sente gonfio. Bene, adesso guardiamo di nuovo le foto, prima una sequenza e poi l'altra, e leggiamo le due frasi complete. Vediamo un po' se abbiamo indovinato. Ok? Attento, tirami il sole. Certo, ti seguo con molta attenzione. Bravo. Perfetto, allora frase 1. Mi sento gonfio perché ho mangiato troppe pizze. Il perché indica la causa. Qual è questa causa? Mangiare troppe pizze. Frase 2. Ho mangiato troppe pizze, perciò mi sento gonfio. Il perciò indica una conseguenza. Qual è questa conseguenza? Il sentirsi gonfio. Tutto chiaro? Tirami su, è chiaro? Sì, ma sono un po' triste. Perché sei triste? Perché ho sbagliato. Ma no, non devi essere triste. Sbagliare è normale, aiuta a imparare una nuova lingua. Dai, su, prova a farmi qualche domanda. Posso dire, siccome ho mangiato troppe pizze, mi sento gonfio? Certo, bravo. Anche il siccome indica una causa, ma lo usiamo all'inizio di una frase. E posso dire, ho mangiato troppe pizze, quindi per questo motivo mi sento gonfio? Posso dire, va bene anche questo. Hai visto? Non devi aver paura di sbagliare. Sai come si dice? Sbagliando si impara. E ci sono altre congiunzioni in italiano? Quali sono? Certo, Tirami su, ci sono diverse congiunzioni, ma per oggi abbiamo fatto già abbastanza. Continua a seguirci su sit e mi raccomando, controlla anche gli appunti sit e fai le attività interattive. Certo, io le faccio sempre, io sono bravissima. Lo so, lo so che sei bravissimo. Adesso, Tirami su, dobbiamo salutare i nostri amici, perché abbiamo finito. Li vuoi salutare? Ciao amici, vi aspetto su sit. Mi raccomando, seguite gli appunti sit e le attività interattive. Io e Tirami su vi salutiamo e ricordate, lo vuoi dire tu Tirami su? Certo, su sit pratichi l'italiano tutto l'anno. Ciao a tutti e a presto su sit, io vado a mangiare un po' di tiramisù. Ciao!